Con il sindaco Fabio Terzi, un problema venuto a galla negli ultimi mesi, ma un problema che si trascina comunque nel tempo, già tre volte il fiume ha eroso, la sponda nel cuore della città, perché la città è proprio a due passi e sono venuti a galla, possiamo dire, dei strati di rifiuti, quindi la situazione qual è? Io direi che il problema ormai risale a qualche anno fa, perché ormai siamo abituati a queste bombe d'acqua, purtroppo questi cambiamenti climatici ci portano a dover affrontare queste improvvise e intense bombe d'acqua, questi ingrossamenti del fiume Serio, che portano chiaramente a erodere quelle che sono le sponde dello stesso fiume. Ora già due anni fa, d'estate, una importante bomba d'acqua aveva eroso in maniera importante la sponda a sinistra del fiume Serio presso la stazione della Tebbe e il ponte sia quello, chiamiamolo moderno, comunque dei primi anni del Novecento, sia quello romanico. Purtroppo li passa anche la ciclabile, cioè il tracciato della ciclopedonale, per cui questa prima erosione di due anni fa aveva comportato un danneggiamento a diversi decini di metri della pista ciclopedonale. Successivamente ci sono state altre erosioni che hanno mangiato sempre di più il tracciato della ciclabile presso la stazione della Tebbe. La regione, con ERSAF, che è l'ente regionale per i servizi agricoltura-foreste, aveva messo in pista un progetto appaltato poi di manutenzione proprio degli argini, delle sponde del fiume Serio, in Albino, tra l'isola Ezeobruno e appunto la stazione della Tebbe, erano tre punti di intervento. Purtroppo il primo intervento, quello più a nord, presso l'isola Ezeobruno, aveva portato la luce dei rifiuti e quindi la successiva bonifica aveva assorbito tutto quello che era il quadro economico per questo intervento. Erano tre punti dove dovevano intervenire. Il primo punto, con i rifiuti che sono emersi, ha praticamente consumato tutte le risorse a disposizione. Adesso nuove risorse sono arrivate e sembra che debbono ripartire e intervenire anche sul punto mediano, noi la chiamiamo l'isola, e poi nelle vicinanze della Tebbe, dove appunto la ciclo pedonale è stata danneggiata. Purtroppo le continue bombe d'acqua hanno portato a un'erosione continua della sponda destra e a un consumo sempre più evidente e maggiore della ciclabile. Abbiamo perso diverse decine di metri. Se non si interviene al più presto, se non si intervenisse celermente, c'è il rischio davvero che questa sponda destra del fiume Serio, nei pressi della stazione della Tebbe, possa essere sempre più erosa e consumata da queste piene improvvise dovute a queste bombe d'acqua molto molto potenti. Noi siamo davvero preoccupati. Capiamo chiaramente quelle che sono le dinamiche degli interventi di Ersaf e di Regione Lombardia quando si trovano i rifiuti e bisogna chiaramente portarli via e bonificare l'area e quindi utilizzare le risorse a disposizione. Purtroppo ormai è da due anni che questa sponda destra del fiume Serio presso la stazione della Tebbe e i due ponti è in atto e continua inesorabile a portare via terreno, a portare via sponde e a rubare metri e metri di ciclabile. Adesso dovrò anche confrontarmi con la comunità montana e vedere se davvero deviare e modificare quello che è il tracciato della ciclabile. E allontanarlo chiaramente dalla riva e dalla sponda. Visto questa situazione di continua erosione e di continuo consumo. Gli errori del passato comunque pagati dalle amministrazioni di adesso, dai cittadini di adesso, anche perché essendo il gioiello della valle seriana ogni volta che si scava o si trova qualcosa sono rifiuti. Allora guardando quelle che sono le foto di inizio secolo, parlo di inizio novecento, dei rilievi aereofotogrammetrici negli anni cinquanta, anni sessanta è evidente che tutta quell'area dove adesso abbiamo il parcheggio dell'ATS o tutta un'area verde dove passa la ciclabile una volta era un'area golenale o comunque faceva parte del letto del fiume Serio. Fino agli anni, inizio anni Ottanta era possibile, questo lo consentiva la legge anche, depositare dei rifiuti. Quindi gioco forza, il fiume Serio erode, la natura vuole riprendersi i suoi spazi, le sue aree, lì c'erano dei rifiuti a suo tempo depositati legittimamente perché la legge lo consentiva fino all'inizio degli anni Ottanta e quindi chiaramente adesso sono le amministrazioni attuali sia comunali sia la comunità montana che ne paga le conseguenze. Però ecco, il mio grido, il mio sollecito è quello di intervenire al più presto perché più si attende più il fiume lì consuma, lì erode. In questi giorni abbiamo perso ancora dei metri, la mia protezione civile è sempre presente si sta dannando davvero per metterci una pezza ma poi questi interventi sappiamo dal momento che riguardano il reticolo idrico principale sono in capo alla regione, sono in capo all'UTR che attraverso l'Ersaf procede poi a fare i lavori. Io mi auguro davvero, tutti i cittadini di Albino si auguro davvero che al più presto si metta mano a questo argine perché dopo due anni non si è fatto niente e lì il serio continua inesorabilmente a erodere e a consumare. Abbiamo perso decine e decine di metri di ciclabile e in profondità almeno 20 metri proprio di area che è stata completamente portata via, spazzata via da queste piene veramente importanti dovute a queste bombe d'acqua che 20-30 anni fa non esistevano. Cambiamenti climatici si fanno sentire anche da noi, non soltanto nelle altre parti d'Italia ma in altre parti del mondo, anche qui in Valseriana abbiamo i nostri problemi e dobbiamo quindi correre ai ripari. Però è da due anni che state sollecitando, il silenzio della politica vi dà un po' fastidio? Ma allora, di fronte ai nostri solleciti, alle nostre richieste di intervento, le risposte da parte dell'UTR ci sono state poi ci sono purtroppo tutte queste procedure burocratiche, progetti e appalti e subappalti trovi rifiuti, devi fare il piano di caratterizzazione, la bonifica, ecco è evidente che tutte queste procedure rallentano e drenano anche risorse. Tutti sapevano che lì c'erano rifiuti ma prima che tu scavi è chiaro finché non vengono portati alla luce non ci sono. Una volta che si è scavato si sono ritrovati e a questo punto gli interventi di consolidamento delle sponde sono stati bloccati, si è dovuto fare la caratterizzazione, si è dovuta fare la bonifica e questi interventi hanno inevitabilmente prosciugato quello che era il budget iniziale, per cui erano tre punti di intervento previsti sul fiume Serio in sponda destra e sinistra sul tratto di Albino e purtroppo hanno fatto soltanto il primo intervento, quello presso l'isola di Zobruno, perché oltre all'intervento la bonifica ha pressoché prosciugato quello che era il budget, quello che era il quadro economico che era messo a disposizione. Adesso dovrebbero ripartire, però intanto il Serio continua a lavorare e abbiamo davvero perso decine e decine di metri di ciclabile e quindi anche metri e metri proprio di terreno erosi continuamente da queste piene improvvise ma neanche troppo dovute a queste bombe d'acqua. Anche in questi giorni, ripeto, siamo tutti in stato d'allerta, la protezione civile è costantemente presente proprio in quell'area del fiume Serio, abbiamo anche dei problemi con alcuni alberi che sono stati proprio portati via dalla piena. Ecco, dovremmo avere un po' più di libertà d'azione noi enti locali, noi comuni, non dico di intervenire su quello che è il greto, il letto del fiume che chiaramente è di competenza dell'UTR, ma almeno poter avere la possibilità con delle procedure più snelle, più agevolate nel rimuovere quelli che sono gli alberi, la vegetazione che se portata via dei fiumi chiaramente creano pochi problemi.